Una partita con il Rieti che non è andata bene, quindi diciamo quale sarà il futuro della squadra e il percorso da seguire? Sicuramente abbiamo giocato una prima metà di partita all'altezza, poi no, siamo calati vistosamente nella seconda parte, quindi il risultato ovviamente non è stato quello che ci auspicavamo. Ora, questa settimana ci alleneremo esattamente come tutte le altre, con lo stesso programma, siamo in attesa di sapere cosa succederà sabato alle nostre dirette avversarie, è chiaro che ci sono ancora alcune possibilità di incastri di risultati che ci concedono di entrare nei play-off, quindi aspetteremo di sapere se la stagione agonistica è formalmente finita per quello che riguarda le gare, gli impegni, oppure se dobbiamo iniziare da lunedì di Pasquetta a preparare la serie play-off che ci riserva il destino. Quindi fino a sabato lavoriamo e poi decideremo in base a quelli che saranno gli eventi una nuova programmazione dopo Pasqua. Ecco, per esempio un incasso che potrebbe essere interessante e favorevole per la fortitudo? Ma sicuramente passa molto attraverso il risultato di Leonis Latina, nel senso che una sconfitta di Latina vi è più necessaria perché altrimenti non avremo chance. A quel punto bisogna vedere cosa farà Scafatti, cosa farà Trapani, però insomma quelle che sulla carta sono i risultati più probabili dovrebbero premiarci, appunto sempre considerando il fatto che ci aspettiamo la sconfitta di Latina a Roma. Facendo un basso indietro, cosa non ha funzionato a Rieti, coach? Facendo un basso indietro sicuramente abbiamo perso intensità, abbiamo perso lucidità, l'infortunio di Ambrosina a 5 minuti dalla fine del secondo quarto chiaramente ha complicato ulteriormente le cose, in un momento già non particolarmente felice per noi e quindi diciamo che siamo mancati proprio di lucidità e di aggressività progressivamente. Poi è chiaro che quando vedi che la partita ti sfugge di mano affiorano tutte le altre problematiche che magari hai provato a tamponare fino a quel momento.